E allora andiamo alle copertine, andiamo a parlare di copertine e ci apriamo pure Canva, vi faccio vedere pure come faccio le copertine dentro Canva. Ed è rimasta una cosa che faccio io, perché? Perché deve essere strettamente collegato con l'argomento del video, e quindi è una cosa che trovo molta difficoltà a delegare, per far capire bene, diciamo, alla persona di cosa parla il video, qual è il messaggio che voglio dare e così via. Mi apro Canva qua e tra un attimo vi faccio vedere pure cosa faccio di interessante con le copertine. Allora, partiamo dalle copertine. Perché ho detto che quella roba di fare le copertine tutte uguali è terribile, è un pessimo consiglio e la quarenza di brand in questo caso non ci interessa? Per un problema molto noto. Eccolo qua, apriamolo un attimo. Mettiamoci la schermo proprio. Esiste un fenomeno che si chiama il fenomeno del banner blindness, che è un fenomeno psicologico per il quale il nostro cervello riconosce in automatico le pubblicità quando stiamo navigando, e riconoscendole le ignora in automatico, ok? Quindi se voi state su un blog e state leggendo, il vostro occhio capisce che alcune cose intorno al contenuto sono pubblicità e non gli dà attenzione. Si chiama banner blindness questo fenomeno. Ecco, esiste un fenomeno molto simile sui contenuti, quindi non pubblicità, diciamo, sui contenuti quelli buoni, organici, che si chiama content blindness, no? Quindi la cecità al contenuto. Che cos'è la content blindness? La content blindness è io utente, sto scrollando il mio feed di YouTube, a un certo punto nel feed mi compare una cosa e questa cosa è troppo comune e quindi la salto. In questo caso qual è? Sfondo verde, Raffaele con la maglia blu, scritta bianca con una parola in giallo. Quando c'è questa combinazione, questa cosa mi fa pensare a un certo tipo di video fatto da una certa persona su un certo argomento. Collego queste informazioni, Raffaele Gato, canale di YouTube, i suoi argomenti, eccetera eccetera. Qual è il problema? Il problema è che scrollati veloci sembrano tutta la stessa copertina. Questo è il problema della content blindness, no? Non dobbiamo dare un senso, cioè qua è controintutivo, non dobbiamo dare un senso di riconoscibilità alla persona, e quindi di farlo entrare in una comfort zone del Ah, lo riconosco, sfondo verde, scritta bianca, maglia blu, è Raffaele, non vedo l'ora di guardarlo. No, perché non funziona così. Nel mondo reale io sto col telefono in mano, in mezzo alla strada, con la connessione bassa, con i rumori di sottofondo, no? Perché guardiamo sempre allo scenario reale, non a quando ci facciamo il nostro scenario ideale a casa. Sto scrollando, bam 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 bam, c'è una cosa dietro l'altra, scrollo quello e dico, beh, questo l'ho visto. Sfondo verde, scritta bianca, maglia blu, è Raffaele, l'ho visto ieri. No, perché questo è un altro, non te ne so accorto. L'unica differenza è che c'è una parolina diversa. L'unica differenza è che lo sfondo era un po' leggermente diverso, e così via. Noi quello che dobbiamo fare invece con le nostre copertine è interrompere. Dobbiamo cercare la novità, non la sicurezza. Dobbiamo cercare l'interruzione, non la riconoscibilità. E quindi nel momento in cui, di nuovo scenario di prima, sto scrollando, bam 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 bam, un botto di roba, pubblica tizio, pubblica cavio, pubblico sempronio, a un certo punto, bam, robottone, scritta gialla paura. Oh, paura di che? Che è sta roba? Clickbait di cui parlavamo prima, bam, vado dentro, mi guardo il video di Raffaele. Scrollo, bam, Raffaele Gaito, Andrea Muzzi, due creator che seguo. Oh, cazzo, hanno fatto una cosa insieme, fammi vedere di che parlano, eccetera, eccetera. Cercate l'interruzione, ok? E questo è controintuitivo, perché quello che invece diciamo facciamo con la coerenza di brand, no? Che però va bene in altri contesti, perciò dicevo sul contenuto no. Con la coerenza di brand invece noi vogliamo creare l'opposto, vogliamo creare, no? L'effetto casa, vogliamo creare, come dire, la comfort zone, vogliamo rassicurare la persona per dire guarda, sono io, sono Barilla, mi riconosci? Sono quello della pubblicità, vedi? Quegli stessi colori, questo stesso pacco di pasta, quello stesso cartellone pubblicitario che hai visto sull'autostrada. Sono Barilla, guarda, sono Apple, sono Apple, fidati di me, no? C'è questo, questa, non lo so, luccicanza nei miei contenuti, no? C'è questo minimalismo, c'è questo tipo di sensazione che ti voglio provocare, eccetera, eccetera. Questa roba ci sta quando facciamo quel tipo di lavoro. Quando lavoriamo sul contenuto e dove l'obiettivo è attirare l'attenzione in un contesto nel quale la persona è iperstimolata, dobbiamo invece cercare l'interruzione. Questa è la cosa fondamentale, una di quelle che vorrei mi avessero detto all'inizio. La copertina è più importante del contenuto. L'accoppiata copertina, titolo, è fondamentale. Pensate a quante è folle questa cosa. Lavorare su un video per giorni, se non addirittura per settimane, e poi dedicare alla copertina e al titolo pochi minuti. Pensateci un attimo quanto è folle questa cosa. Avete lavorato per settimane, per giorni, nel migliore dei casi, per ore, a un video, nel quale avete messo tutto voi stessi, tutte voi stesse, non vedete l'ora che raggiunga quante più persone possibile, e quando l'andate a pubblicare, scrivete la prima cosa che vi viene in mente, e come copertina mettete o un frame del video, o una cosa al volo fatta senza perdere troppo tempo, perché ho altro a cui pensare, io lavoro, mica devo fare i contenuti. No? Ora che ve la metto così, capite quanto sta cosa è una cazzata. È l'errore più grande che possiamo fare. Se abbiamo dedicato del tempo al contenuto, creiamo del tempo anche al modo con il quale lo presentiamo alle persone. E in questo caso la copertina è il titolo. Perché sto mettendo tutto questo accento? Perché quella è l'unica cosa che le persone vedranno di quel contenuto. E noi abbiamo un bias cognitivo che ci porta a dire, mamma mia, questo è il video migliore che ho fatto, ci ho lavorato tre settimane, ho raccolto materiale di archivi, ho fatto le interviste agli esperti americani, ci ho messo 200 fonti nella descrizione, wow, questo spacca, questo piacerà a tutti quanti, c'è un problema. Se le persone non lo guardano, non lo sanno che c'è tutto questo valore. Loro hanno due parametri per giudicare, la copertina e il titolo. I 40 minuti di valore non ci arriveranno mai se non li avete convinti con la copertina e il titolo. Ecco perché la copertina e il titolo sono fondamentali e sono più importanti del contenuto in sé. Cosa significa testare almeno tre copertine? Significa questo. Scrolliamo giù, vi faccio vedere proprio il video che ho pubblicato oggi. Questo video qua, no? Guardate. Questo video qua, c'ha tre copertine, forse qualcuno di voi l'ha pure vista. Perché è uscito con questa copertina qua, appena l'ho pubblicato proprio, dopo 5-6 ore ho messo questa copertina qua. Stamattina ho messo questa copertina qua. Vi faccio vedere, guardiamo così in termini di metri, così guardiamo un po' di numeri. Perché io cosa faccio? Pubblico, metto la copertina e mi tengo d'occhio questi due parametri. Ok? Quindi mi tengo d'occhio il click-through rate, perché il click-through rate è questo. Il click-through rate è di 100 persone che hanno visto questo video, quanti hanno cliccato. E là l'unica cosa che puoi fare è lavorare sulla copertina. E secondo, poi una volta dentro, quanti sono rimasti. Ok? Non mi interessa il numero di visualizzazioni, mi interessano questi due numerini, in particolar modo questo qua, in particolar modo questo. E allora io nelle prime ore vado a giocare con varie copertine per vedere se riesco ad aumentare quel click-through rate. Tra poco avremo invece questa cosa gratuitamente inclusa dentro YouTube, cioè la possibilità di fare A-B testing in automatico con tre copertine. Quindi le carichiamo, gliene diamo tre a YouTube, YouTube fa questo test in automatico, ci dice, guarda Raffaele, delle tre che hai mai dato, questa fa 2% di click, questa 5%, questa 3%. Quindi consigliamo di tenere la seconda, perché fa 5%. Qualcuno ce l'ha già attiva, eh, questa cosa. Io non vedo l'ora che me l'attivino, perché adesso lo faccio manualmente, ed è una cosa disarmante, proprio impossibile da fare, terribile. Quindi di solito lo potete fare nelle prime ore, io lo spalmo nelle prime due giornate, però preparatevi tre copertine e preparatevele prima. Sommiamo indietro, così le vediamo insieme. Due molto simili, una molto diversa. Due dove sullo sfondo c'è il GPT Store, una invece dove non c'è, ci sono delle icone colorate. Una con i colori scuri, una con i colori molto chiari. Due con una faccia simile, una con una faccia diversa. E cambiano anche le scritte, no? Ricordiamoci, non deve essere il testo del video. Quindi il video, come si chiama? Il video si chiama il GPT Store è arrivato ed è una bomba. Tutorial completo. E qua cosa faccio? Uno, inizia la rivoluzione. Vedo questo video, oh, ma che rivoluzione? Di cosa sta parlando Raffaele? Titolo? Ah, GPT Store, fammi vedere. Secondo, il GPT Store è qui. Qua invece ti voglio subito portare attenzione sul GPT Store. Terzo, ci siamo. Ci siamo che? E ci siamo a cosa? Mi sposto sul titolo e il GPT Store è arrivato. Raffaele ha fatto il tutorial, me lo vado a vedere. Preparatevi sempre almeno tre copertine sulle quali andate a lavorare. Guardate questa qua, sulle mie fonti. Qua me ne ero fatte due. Ah no, poi c'era una terza, ma forse l'ho sovrascritta quando ho fatto questa, ho sbagliato. All'inizio ero uscito con questa, terribile come copertina, performato malissimo. Questa qua, invece, sta andando molto molto bene. Dove ho messo la parola fonti nella copertina, no? Poi ho fatto questo tesoro che si apre, eccetera. Tutto fatto con cab, io non ne capisco niente di grafica, zero, non so proprio niente. Semplicemente uso i template di YouTube. Guardate, questo è bellissimo. Quindi faccio una nuova pagina, YouTube ha un botto di template per le copertine. Quindi di cosa vi occupate? Di alimentazione? Io scrivo cibo, qua dentro, ci sono una valanga di copertine pazzesche e voi non dovete fare altro che bam, prendere questa, qua togliere la vostra faccia, ops, togliere la faccia di questa persona, metterci la vostra. Ci abbiamo qua, così, e qua ho fatto, ci ho messo 10 secondi per fare una copertina. Se iniziate adesso, se non siete dei grafici, se non avete un grafico nel team, questo è il modo con il quale potete fare delle copertine buone, che funzionano, che sono di impatto, perché? Perché l'hanno fatte quelli di gamba, non voi, non io, ok? E ce ne sono una valanga, cambia ovviamente come sempre ce n'ha migliaia, sono tutte organizzate per l'argomento, quindi che ne so, vi occupate di sport? Guardate qua, che copertine per il mondo della palestra. Vi occupate di tech? Guardate qua quante ce ne sono, intelligenza artificiale, VR, mobile, che ne so, quello che volete, computer, tool, eccetera, eccetera. Ce ne avete una valanga proprio di copertina. Cos'altro sulle copertine? Testarne almeno tre, sempre diverse tra di loro, quindi vado a smontare, completamente la coerenza di brand, faccio tutte cose diverse, tutte cose diverse. Questa è una cosa molto strana all'inizio da fare, dopo un po' invece diventa l'elemento, come dire, principale con il quale lavorate, cioè io ogni volta che creo una copertina, la prima cosa che penso, sapete quale adesso è, ok, cosa non ho fatto fino ad ora? Fammi provare questa cosa qua. Che ne so, l'altra volta ho fatto, ho detto, o meno, non le sto facendo mai copertine senza il mio volto, e quindi ho fatto questa che è andato molto molto bene. Pure qua, molto clickbait, attenzione, scritto grosso, c'ha GPT, la scritta che va a fuoco, con poi sottoscritto, c'ha GPT è stato hackerato. Perché? Perché parlo proprio di questa, è una cosa seria, cioè volevo parlare proprio di quello. in generale, copertino con il volto funziona meglio, cosa che non ho messo nel, 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 qua nelle scritte, ah no, l'ho messo sta sotto, scusate, non ho messo, il volto funziona sempre, quindi nel dubbio, mettete la vostra faccia. Anche qua, diciamo, perché ce lo spiegano le neuroscienze, non mi sto inventando io niente di nuovo, le persone sono attratte dalle persone, il nostro cervello, i nostri occhi, sono portati a vedere, no? Altri occhi, altri volti, quindi io quando vedo dei volti, sono più portato ad essere, come dire, interessato a quella, a quella roba là. Quindi in generale, mi sono reso conto che le copertine con la faccia, funzionano sempre meglio delle copertine senza faccia, soprattutto se la faccia è grande. Guardate, qua può sembrare un po' strano, vista così, dici, mamma mia, ma questa faccia deve pigliare tutto questo spazio, ma la gente non le vede così le copertine, le vede così. Ok? Quindi quella che sembrava enorme, in realtà non è poi così grande, anzi, questo è da PC. Immaginate questo, guardato da mobile, no? in uno schermetto piccolino di pochi pollici, e così via. Quindi copertine sempre diverse, e fa la differenza, fa la differenza, soprattutto non vi mette mai i limiti di creatività. E invece vi dicevo, no? Tutti i limiti che mi ero messo io all'inizio, i paletti che mi ero messo, perché ovviamente fare le copertine tutte come le avevo fatte prima, c'è veramente pochissimo di spazio di manovra. Cambiavo la scritta, e cambiavo quello sfondino dietro, che ovviamente non si vede, si vede a mala pena, guardate là, qua c'è uno sfondino con dei soldi, ma non si riesce manca a capire che sono dei soldi. Qua invece cosa c'è? Qua c'è un uovo rotto. Perché? Perché il titolo è senza fare danni, quindi un uovo rotto. Come faccio a vedere che c'è un uovo rotto lì dietro? Se la dovessi fare oggi, cioè mettere un uovo gigante rotto a schermo, con la mia testa, no? Con io che mi tengo la testa così. E la scritta grossa, non farlo. E poi sotto nel titolo cosa? Non modificare il tuo sito senza utilizzare lo staging, è pericoloso. Eccetera, eccetera. Sempre sulle copertine, perché ho detto che la parte delle copertine è bella cicciosa, potrebbe essere un corso a sé, ed è tutto gratis in questo bellissimo webinar. La copertina deve fare una sola cosa, attirare l'attenzione. Come se tirate l'attenzione con uno di questi sei modi, che potete anche combinare. Il contrasto forte. Il contrasto che significa? Intendovi i colori. Contrasto di colore, ok? Quindi, guardate, bianco con una scritta nera. Sfondo scuro con una scritta chiara. Sfondo scuro con una scritta chiara. Scritta grossa con il bordo bianco, ok? Questo significa il contrasto, perché se io faccio questo, ci vado a mettere qua, che ne so, ora la esagero, ovviamente, però, per farvi capire, questo non è un buon contrasto, ok? Anche perché le persone non le guardano così le copertine, le copertine le guardano così. Quindi ci dobbiamo chiedere, è leggibile quando la vedo così? Invece guardate queste, come sono leggibili anche quando sono piccole. Guardate, questa è la prova che faccio io sempre. Ogni volta che ho fatto la copertina, la prova del 9, per vedere se la posso esportare, è portare questo al 10% e vedere se è leggibile. E cioè, devo capire, se ho messo delle scritte, queste scritte si vedono, il contrasto è abbastanza elevato, si riesce a capire l'argomento di cui sto parlando? Quindi la prima cosa è il contrasto forte. Seconda cosa, i colori. Cioè, questo nel tempo me ne sono reso conto, le copertine che hanno dei colori molto molto forti, molto molto accesi. Questa per esempio c'è un sacco di icone, no? Ce n'era una anche qua sopra, vedete lo sfondo molto colorato e così via. Guardate questa quant'era brutta. Questa era quell'altra versione, poi questa qua ha spaccato. E qua vi faccio vedere, tra l'altro andiamo a vedere, perché poi i numeri parlano sempre più, diciamo, delle opinioni. Andiamoci a prendere questo qua, vi faccio vedere, nelle statistiche, nelle statistiche, guardate cosa succede con la copertina giusta. Cioè, con la copertina giusta si impennano. Cioè, guardate il grafico qua come cambia, qua si stava piattendo, guardate cosa succede? Bam, schizza proprio. Cioè, schizza proprio quando cambiate la copertina e beccate la copertina giusta, eh. Cioè, non è che vi sto dicendo fate le prove con le copertine perché, perché mi piace, no? Perché so, so fissate le copertine, perché la copertina giusta vi svolta il video. Andiamo in un altro dove la copertina ha svoltato il video, vi faccio vedere, vi faccio vedere una dove la copertina ha svoltato il video, me lo ricordo, che pure è stato abbastanza clamoroso. Forse questo qua. No, non è questa. Questa è abbastanza normale come curva. Aspettate, forse è più indietro. C'erano un paio a novembre-dicembre che il cambio di copertina ha fatto veramente, ha fatto veramente faville. Ha fatto veramente faville. Cioè, è la curva, voi lo vedete proprio, vedete la curva che si sta appiattendo e poi all'improvviso schizza. Pure qua. Lo vedete proprio, no? Vedete che qua si stava andando ad appiattire? Bam, è risalita. Vedete? E questa roba qua ovviamente parliamo di migliaia di visualizzazioni in più, eh. Cioè, sembra poco, ma sono migliaia di visualizzazioni in più. E c'era una valanga di video così. Cioè, veramente una valanga nei quali col cambio copertina vedete proprio la differenza. Pure questo qua, se non mi sbaglio, aveva fatto un bel salto. Guardate qua. Cioè, qua si vede proprio il salto. Guardate qua, zoom. Vedete? Si stava andando a piegare. Vedete qua si stava andando a piegare. Poi bam, salto. Cioè, questo salto ti fa portare da 16.000. Guardate qua, 18.000. Cioè, questo è nel giro di, magari, di qualche ora. Il cambio di copertina da svolta. Altra cosa interessante, numeri. Cioè, se ci sono dei numeri che volete far vedere, delle cose interessanti, il numero grosso è un evergreen. Nelle copertine funziona tantissimo il numero grosso. Quindi, che ne so, 100 giorni senza bere alcol. Ecco come si è trasformato il mio corpo. Perché magari vi occupate di alimentazione, vi occupate di fitness, eccetera. Grosso a schermo, 100, mettete grosso così, e poi sotto magari scritte senza alcol, no? Quindi questi numeri grossi che attirano l'attenzione. Ho percorso, non lo so, 20.000 miglie a piedi. 20.000 miglie grosso attira l'attenzione. Il testo? Poco testo. Cioè, proprio l'errore che facevo io era di riempire le copertine di testo. Guardate qua. Ecco come l'informatica mi ha salvato. La cultura della performance ha rotto. Live staging senza fare danni. Oggi le copertine sono Ci siamo. Le mie fonti. Pericolo. Paura. Con un click. Perché? Perché la copertina deve avere un ruolo diverso. C'è il titolo per quello che volevo fare io prima nella copertina. Quindi, con un click. Ma con un click cosa? Animazioni gratuite grazie a questo tool di intelligenza artificiale. Ah, quindi con un click posso fare le animazioni. No? Metto insieme con le due informazioni e arrivo al dettaglio. Quindi non ripetete il titolo. Questo ve l'ho detto già due o tre volte. Parole di impatto. Le avete viste. Su parole di impatto c'è poco da dire, no? Quindi sono sempre cose molto molto forti. Alcuni concetti sono evergreen, no? Quindi gratis, facile, veloce. Quindi alcuni concetti che subito richiama l'attenzione delle persone. Vedete, a volte io non metto le parole. Qua per esempio non le metto. Qua sono undici app che io uso tutti i giorni. ho fatto il gioco con delle icone che si vedono e delle icone che invece sono nascoste. Così ti viene la cosa di dire oh no, undici app, sette app. Ah, quali sono? Fammele vedere. Fammi andare dentro, fammi vedere quali sono. Quindi non ce le metto. Vedete, qua non ce la metto. Qua il concetto è automatico. Qua ti sto parlando di trasformazione, ti sto dicendo guarda che facendo questa cosa ho ottenuto questa cosa, che è clamoroso. Cioè ho fatto due disegnini come un bambino di due anni e ho ottenuto quella a destra che sembra un quadro, no? Ad olio su tela. Non te lo devo dire. Te lo faccio vedere così al volo. E poi altra cosa, le emozioni. E' il motivo per il quale poi ci sono i visi, no? Quindi vedete, qua mi ha deluso. Mano in testa di cosa sta parlando Raffaele. Qua vabbè, non era mia faccia, ma il pericolo, la faccia del tizio pericoloso. Qua paura, no? La mia faccia, quella lì dove indico con la paura, eccetera. Cosa altro? Fatemi vedere. Questo è un regalo e quindi, cazzo, ti sto regalando una cosa fuori di testa, emozione, eccetera, eccetera. Quindi riprodurre un'emozione nei volti è fondamentale. Con queste testo io le copertine, eh? Questa è una cosa fondamentale. Allora, la prima cosa le faccio vedere ad altre persone. Cioè appena ho fatto una copertina o la faccio vedere a mia moglie, proprio in casa, così al volo, oppure la faccio vedere ad amici. Quindi la, la, proprio l'immagine, la jpeg la faccio vedere ad amici. La mando nei gruppi whatsapp, la giro e vi dico, raga, questa copertina cosa vi fa pensare? Quindi prendo solo la copertina, no? Senza il titolo. Quindi questo. Mando questo in un gruppo whatsapp e vi dico, oh, senza sapere questo video di che parla, che vi fa venire in mente? Perché quello che devo capire è cosa sta pensando la persona. Perché se sta pensando quello che interessa a me, la copertina funziona. Se invece ero fuori strada, ho sbagliato qualcosa nella copertina. gruppi whatsapp, le pubblico nella sezione community. Cioè la sezione community che abbiamo visto prima, questa qua, si può utilizzare anche per pubblicare delle immagini. Io posso pubblicare un'immagine e fare dei test su quello. No, magari le pubblico tre e vi dico, e faccio, guardate qua, vado su queste tre, zoomo un pochino indietro, prendo queste tre, le metto nella sezione community e chiedo quale di queste tre vi piace di più? Quale di queste tre sareste disposto a cliccare? Quale di queste tre vi ispira di più la cosa X che voglio trasmettervi? Eccetera, eccetera. Quindi, sfruttare la sezione community. Appena esce questo, sarà la fine. Non vedo l'ora che ci sarà l'integrazione di... Il gruppo whatsapp l'ho messo due volte, non so perché. Non vedo l'ora che ci sarà l'integrazione dentro di YouTube. Così lo faremo in automatica. Questa cosa è una bomba. E poi, rimpicciolisco in camba. Quando rimpicciolisco cosa faccio? Lo facciamo insieme. Lo porto proprio al minimo. Vedete? Lo porto al minimo e controllo queste quattro cose. Il testo si legge? Proprio la prova del testo. Ci siamo. GPT Store è qui. Inizia la rivoluzione. Diventa creator. Le vie fonti. Nuove IA. Con un click, eccetera, eccetera. Perfetto. Approvato. Proprio faccio la spunta. Le immagini si vedono? Cioè, riesco a capire cosa c'è qua? Qua sono delle icone. Qua dietro c'è già GPT. Qua dietro c'è un gattino. Questo è Raffaele Gaito. Questo è un baule. Questa si vede male. Infatti questa l'ho scartata. Questa c'è un robot. Robot. Andrea Muzzi. Vedete? Anche qui ci sono tre versioni della stessa immagine. Vedete? E poi ho usato quella là. Quindi vado a vedere le stesse immagini e le vedo. Si capisce l'argomento e che emozione suscita. Quindi quando la rimpicciolisco così dico se io guardo queste tre qual è di queste tre quella più sensazionale no? Sul voglio trasmetterti i trucchi di Andrea sulla memoria. Quindi più questa più questa o più questa. E poi vabbè questo è un evergreen qua non ce l'ho messo nella cosa ma ce lo mettiamo ce lo mettiamo qua ce lo mettiamo qua frecce e cerchi così visto che dopo vi do la mappa mentale questa ve la ricordate le frecce e i cerchi sono potentissimi le frecce ti indicano esplicitamente cosa voglio farti vedere e anche qui non perché trattiamo i nostri utenti come degli stupidi ma perché ce lo dicono le neuroscienze no? Che noi guardiamo dove indica la freccia diventa creator che punta Raffaele Gaito persone che tu conosci e che sai essere un creator gattino ti faccio vedere tre gattini simili quindi guarda come l'ho riprodotto no? guarda da sinistra verso destra guarda qua c'è questa immagine statica che diventa un video qua ho avuto pova difficoltà a far passare questo concetto no? ho cercato parecchi metafore prima di arrivare a questa e non so se è la metafora la metafora migliore oppure indico col dito vedete se non metto la freccia quindi dito che indica il robot i suoi trucchi i trucchi di chi? ci sono due persone i trucchi di Andrea perché la freccia ti porta sul volto di Andrea eccetera eccetera quindi le frecce oppure i cerchi a volte metto pure i cerchi per indicare delle cose e poi le copertine come le facciamo delle buone copertine? ci sono cinque tipi di copertine su YouTube le copertine che raccontano una storia vediamo un esempio questa qua copertine che raccontano una storia quindi c'è un pericolo con l'intelligenza artificiale devi cliccare qua se vuoi saperlo te ne parlerò io poi te lo dico anche col titolo però copertina che racconta una storia le copertine che mostrano una trasformazione che quindi dicono un prima e un dopo il prima e il dopo sono queste qua per esempio queste copertine trasformative questa è una copertina trasformativa qua sopra ce n'è qualcun'altra questa è una copertina trasformativa quindi voi vi occupate di fitness ecco come ho non lo so fatto i miei addominali in sei mesi foto a sinistra di me con la pancia foto a destra di me con la tartaruga scolpita no? racconta una trasformazione poi ci sono le copertine che spiegano una novità queste le abbiamo visto per esempio no? quelle là queste sono copertine che raccontano una novità ci siamo rivoluzione novità è arrivato il momento no? quindi raccontano una novità copertine che dicono come fare quindi come ottenere una cosa che possono essere i miei tutorial ma possono essere pure come fare la carbonara perfetta quello che abbiamo detto prima come abbinare le sneakers con cosa era con i jeans eccetera eccetera no? anima i tuoi disegni cioè questo è proprio fa proprio questo ok? qualcun'altra qua sopra oppure c'è sono quelle più da diciamo da tutorial ma qua sotto è da un po' che non pubblico un tutorial ok? questa pure no? questo è pure il racconto della storia vedete pure qua ci sono tre versioni diverse vi dico la mia la verità cosa nasconde cosa nasconde è molto più di impatto no? stimola molto di molto di più quindi racconta come fare oppure svella un segreto svella un segreto forse questa era più adatta a svella un segreto questa qua era proprio svella un segreto cosa nasconde pericolo per l'umanità attenzione quindi dentro questo video c'è una cosa importante che voglio farti sapere e quando pensiamo alle copertine ma se volete questo per estensione potrebbe essere anche quando pensiamo ai nostri contenuti noi stiamo facendo sempre uno di questi cinque contenuti potremmo fare delle macro categorie infinite enorme ma poi si torna sempre a questi cinque contenuti o stiamo raccontando una storia o stiamo mostrando una trasformazione o stiamo spiegando una novità o stiamo dicendo come fare una cosa oppure stiamo svelando un segreto a una persona e questo vale in tutti gli ambiti perché uno potrebbe dire eh Raffaele ma io faccio una cosa particolare sono un avvocato che mi occupo di violazione dei copyright eh perfetto tu puoi raccontare una storia ecco l'azienda che è riuscita a fregare Disney stai parlando di copyright ma racconti una storia mostra una trasformazione che ne so ecco i tre errori che non devi fare per proteggere il tuo per infarangere copyright altrui spiega una novità il che ne so è scaduto il copyright su Topolino che è successo ultimamente in America ecco cosa cambia racconti come fare ecco come proteggerti da che ne so da chi vuole infarangere i tuoi copyright eccetera eccetera svela un segreto oppure quello che non t'hanno mai detto sulla differenza tra copyright che ne so registrazione del marchio e così via no quindi vedete sono copertine ma in realtà sono le tipologie di video possiamo raggrupparle tutte tutte qua dentro se volete il video che hai appena visto è solo un pezzettino di un video di un corso molto più grande molto più lungo su come lavorare bene su YouTube dove condivido strategie tecniche segreti trucchi eccetera eccetera e ti consiglio di guardarlo tutto se questo ti è stato utile puoi andare qua e guardarti tutto il corso completo per intero e guardare bene e guardare bene e guardare bene